Ciao a tutti, io sono Daniele e vi volevo dire che la possibilità di seguire questi corsi online mi ha permesso di rimanere comunque in allenamento anche durante questo lockdown e queste situazioni difficili. Soprattutto c'è la possibilità di essere seguiti dal vivo, dal proprio maestro, e quindi essere seguiti con efficacia. E soprattutto posso anche permettermi di organizzare la giornata secondo i miei impegni grazie al grande numero di corsi disponibili sulla piattaforma online della palestra. Inoltre lo consiglio vivamente perché è efficace, mi trovo molto bene e soprattutto volevo ringraziare tutti i maestri dell'Otsuka per la grande disponibilità e per l'impegno che hanno messo nel portare avanti questa iniziativa. Grazie a tutti.